Siamo quasi nel vivo della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Provine. Abbiamo già avuto modo di chiacchierare un po' sull'argomento e devo dire che è sempre molto interessante parlare di iniziative e manifestazioni come questa, un po' particolare, dedicata meramente agli operatori del settore. Vogliamo mettere i puntini su lei e quindi dedicare una intera iniziativa al business? Sì, per il Provine è una fiera di business, quindi gli operatori sono trade, enotecari, ristoratori, non abbiamo il pubblico privato. È diventata, a mio avviso, la fiera più importante del mondo del vino, non solo per il mercato europeo ma per il mercato internazionale. Io sono presidente della DESA, mi chiamo Sofia Biancolin e sono stata un po' l'autrice di portare, di consigliare, di fare, dato che nel 2018 Roma è la capitale del gusto, del cibo internazionale, di fare questa conferenza stampa in questa città che amo. Esatto, 2018, anno del cibo e quindi questo ci riempie d'orgoglio a noi come italiani, però se facessimo tutte le cose a casa nostra e basta non sarebbe sufficiente per veicolare poi l'interesse internazionale e da qui iniziative come Provine. Ecco, in che cosa si distingue da quelle che lei sicuramente conosce a livello nazionale? Magari abbiamo degli esempi davanti agli occhi anche di iniziative importanti nazionali, però in che cosa si distingue Provine? Abbiamo già detto uno, il business e due, gli operatori del settore, ma non saranno solo queste le differenze? No, assolutamente, è la concezione di una fiera fatta con la mentalità tedesca che è ben diversa dalla mentalità, logicamente, italiana o di altre mentalità, quindi partono da un progetto ben definito. Abbiamo visto anche Provine Asia, io quest'anno ho fatto per la prima volta Provine Shanghai con grande timore perché da italiana andare a promuovere il vino italiano in un mercato così importante come quello cinese, come quello asiatico, invece ho notato che noi italiani siamo apprezzati ovunque per il nostro modo di fare, ma soprattutto per le nostre aziende, per le nostre eccellenze. Io ho visto, ho fatto tre masterclass importantissime con Master Wine sui vini rossi, sui vini bianchi, sui vini rosati. Sui rossi mi dicevano va benissimo, ma sui bianchi, sui rosati dicevano che non avrei potuto avere successo. Abbiamo portato 248 buyer, quindi non è poco. Quindi è questa la mentalità tedesca di fare qualcosa dove si sa già il risultato. E questo è molto bello e molto incoraggiante. Quali sono le date di quest'anno? Allora, le date vengono fatte a Provine Dusseldorf, l'abbiamo il 18 marzo fino al 21, invece Provine Singapore e Provine Shanghai che sarà la terza settimana di novembre. Che meraviglia, quindi un vero e proprio percorso, se mi permettete, che travalica un pochino i confini. Ecco, invece per quanto riguarda la presenza italiana a Dusseldorf e anche nelle altre due manifestazioni, ecco, come ci comportiamo? Ci difendiamo bene? Ci difendiamo molto molto bene. Prima di tutto perché siamo italiani, quindi siamo capaci di risolvere le cose anche all'ultimo minuto. Ed è quello un po' che ci invidiano tutto il resto del mondo. Ma soprattutto portiamo l'eccellenza. Abbiamo un panorama di vitigni autoctoni che ci invidiano e dobbiamo solo comunicare. Ecco, è quello che a noi italiani un po' manca e per quello l'adesa che è italiana, ma vivo da 32 anni nel nord Europa, faccio le cose comunicando. La comunicazione è il primo passo per avere successo. Ecco, e da comunicatrice, da comunicatrice donna, chiudiamo rivolgendoci alle donne che nel mondo del vino oramai sono una presenza forte, una presenza costante, a differenza di quanto magari poteva accadere una ventina di anni fa. Ecco, e che cosa diciamo alle donne del vino, a quelle che lo producono, non tanto alle consumatrici? Alle produttrici? Esatto. Di crederci, crederci perché noi donne riusciamo ad essere vincinti ovunque. E questo è bellissimo invece alle consumatrici perché anche loro hanno acquisito una sorta di gusto speciale. Insomma, molte donne oramai si affacciano al mercato come consumatrici consapevoli. Questo che mi piace, la consapevolezza. Cosa diciamo loro? Perché la donna è così, fa qualcosa solo quando è preparata, anche perché è allo specchio di molte critiche. Quindi noi donne abbiamo affinato, prima di tutto abbiamo un palato molto fine e quindi dobbiamo solo dire abbiamo scelto questo. E perché? Punto. Evviva! E noi adesso continuiamo con le immagini della conferenza stampa. E noi adesso continuiamo con le immagini della conferenza stampa.